Si fa sempre più complicato e incerto il futuro degli aeroporti di Crotone e Reggio. Il TAR Calabria ha deciso di annullare il bando ENAC per la gestione degli scali, accogliendo il ricorso della SAGAS, società a partecipazione pubblica, che aveva presentato offerta per il solo Sant'Anna. Secondo il TAR, sono stati violati i principi di concorrenza. Per i giudici amministrativi, il bando ENAC sarebbe stato ritagliato per prediligere le offerte per la gestione di entrambi gli aeroporti. Il risultato è che adesso è tutto da rifare e si allungano a dismisura i tempi per arrivare a una riorganizzazione del sistema. Il Sant'Anna sarà destinato a rimanere chiuso, mentre il Tito Minniti rimane appeso a un filo. La decisione del TAR è arrivata proprio mentre a Roma era in corso la riunione tra il ministro del Rio, il governatore Oliverio e il sindaco Falcomatà. Nel corso dell'incontro, si legge una nota diffusa dal Ministero, è emersa la necessità di salvaguardare i servizi sugli aeroporti per garantire la connettività del territorio e la crescita del turismo. Garanzie sono state fornite poi dal Governo sulla permanenza di Alitalia nello scalo e sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio da parte della fallita SOGAS. Anche perché nelle casse della curatela fallimentare erano appena arrivati 900.000 euro stanziati dalla Regione e 100.000 individuati dal Comune. Ma potrà l'esercizio provvisorio proseguire per tutto il tempo necessario alla preparazione di un nuovo bando? Riccardo Tripepi per la CNews24